Il 21 marzo nella Biblioteca della Regione la Presidente dell'Associazione Donne Sommeillè, Maria Luisa Alberico, ha svolto una conferenza sul tema vino e letteratura. Vino e letteratura, una carrellata nella civiltà della vita e del vino, della sua storia millenaria. E quindi la civiltà del vino dalla classicità greca, dal Ceo ad Anacreonte, sino ad Aldamerini, sino a Borges, sino al Novecento. Tutte le epoche hanno cantato il vino. Il vino è davvero il momento di assoluta, inscindibile azione dell'uomo nei confronti della natura. Vino, culla della nostra civiltà occidentale, letteratura che ha cantato gli effetti psicologici, gli effetti simbolici, rituali di questa straordinaria bevanda. La mostra I cavatappi, storie, brevetti, artigianato, curiosità dal XVII secolo oggi, prosegue intanto fino al 20 aprile. L'orario lunedì venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.